Una grande famiglia distrutta da un destino crudele. E sotto shock la comunità di Tuglia, piccolo centro dell'Interland Gallipolino di appena 5.000 anime. La notizia della tragedia stradale, nella quale hanno perso la vita la piccola Viola Casili, i suoi nonni materni e la sua prozia, ha sconvolto tutti. Vito Muscatello, Rosa e Anna Maria Minerba erano molto conosciuti e stimati in paese. Facevano il pane per tutto il paese, diciamo, quindi... Io quando lo saputo ieri sera sono rimasto allibiti. Io la conosciamo, è una brava gente, bravissima. Bravissima. Siamo rimasti veramente scioccati. Il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, che per anni è stato il sindaco di Tuglia, è ancora scosso. Solo pochi giorni fa aveva incontrato Viola, figlia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Casili. Sembra che per queste persone ci fosse un destino segnato che le aspettava, è veramente qualcosa di tragico e di inimmaginabile. Poi un pensiero alla piccola Viola. Io avevo avuto l'opportunità di vederla giovedì sera, una bambina meravigliosa, splendida. I funerali si svolgeranno con ogni probabilità martedì nella chiesa madre. A Tuglie sarà proclamato il lutto cittadino. Annullate feste e manifestazioni. Anche le luminarie natalizie rimarranno spente.